signora perché ha scelto rotowash perché rotowash fa proprio quello che dice si rotowash con acqua e ammoniaca o detersivo non schiumoso è lava moquette rotowash è lava pavimenti questa è la potenza di rotowash per un pulito reale e si rotowash fa proprio quello che dice rotowash sei modelli per tutte le esigenze dall'appartamento alla grande industria per una prova pratica a domicilio telefona a rotowash milano 46 96 182 oppure a queste sedi